a me è serio, guarda che cosa è questa cosa, è un'agenda bimestrale vede qua, è buota perché me l'hanno confezionata oggi ho trovato questa vecchia agendina, gli ho detto di fare per la verità le cose molto sottili io questa cosa me la comincio a portare, siccome non so usare internet o quant'altro fino alle 23, dalle 8 alle 23 segno appuntamenti e poi mi ricavano e manca la notte presidente, la notte perché non siamo in campagna Presidente, tutta l'attenzione è puntata su questi rapporti presunti tra politica e alcuni esponenti della mafia se lei tornasse indietro c'è qualcosa che non rifarebbe? io le dico con una grande presunzione, che se io incontro un mafioso e gli contagio un poco di legalità piuttosto che pretendere un mafioso di contagiarmi l'illegalità o la propensione al crimine numero uno, seconda cosa, lo dico e lo ribadisco, tutti i rapporti che mi si addebitano sono rapporti politici con gente che poi magari ha cominciato a delinquere o quant'altro così come vi dico con molta onestà e franchezza se io, allora io non leggo mai la cronaca giudiziaria, la cosiddetta cronaca nera se io ho incontrato un signore non so che costui è stato accusato di omicidio piuttosto che di associazione a delinquere di stampo, non lo so proprio quando certo oggi si accosta il mio nome a un signore e si scrive accanto a lui una relazione della DIA, chiaramente vengono i brividi, io del mio comportamento rendo conto cos'è il concorso esterno? Avere aiutato l'associazione mafiosa a potenziarsi ma scusatemi, ho mai raccomandato un loro uomo per un'assunzione? ho mai raccomandato un loro imprenditore per un appalto? hai fatto il nome del figlio di Bevilacqua? io sono venuti a chiedermi qualcosa del genere ma neppure Bevilacqua perché poi ho ricostruito le cose, io lì ho parlato per due ore e mezzo in una conferenza stampa, ho saputo che questa è una vicenda sulla quale la procura o le procura, non so quali procura, ha indagato archiviandola, perché poi ho ricostruito questa intercettazione è mai pensabile che Bevilacqua chieda dopo due o tre giorni al suo interlocutore a chi deve rivolgersi il figlio per l'assunzione è chiaro che non era venuto lui perché un padre che riceve da me l'indicazione di presentare una domanda all'ente porto piuttosto che da un'altra parte non se lo scorda, se lo scolpisce nella mente questa è la dimostrazione che Bevilacqua non è venuto così come se fosse venuto e avesse bussato a casa mia possibilmente io avrei scoperto dopo di chi trattavasi e in ogni caso non ho raccomandato né il suo figlio, né il suo zio, né il suo nipote così come, ripeto, non ho affidato incarichi di progettazioni né incarichi di geologo a Barbagallo o a quant'altro scusatevi, non è che l'associazione mafiosa è una associazione di volontariato che regala favori o voti che non gli sono stati neppure chiesti a chi sarebbero stati chiesti questi voti al signor di Dio di Dio alla vigilia, la sera precedente, le uniche elezioni le europee del 2004 durante le quali o alla vigilia delle quali di Dio non poteva uscire di casa perché cosa che sicuramente io non sapevo neppure scusatevi, chi è di Dio? Sandokan che nell'arco di una notte o l'indomani mattina muove quanti voti tenete conto? quindi non c'è stato da di Dio quella sera? quindi, allora, aspetti che le rispondo io mi sono piazzato a quelle elezioni a 50.000 voti dal primo più indietro e 50.000 più avanti del terzo non potevo superare il primo con l'apporto di chi che sia e se di Dio o chiunque fosse stato così potente l'attualmente sarei andato a trovarlo un mese prima un anno prima piuttosto che il giorno prima ho detto 100 volte che così come a casa mia abito alla fiera alle 8 di mattina c'è il massimo del movimento delle persone quindi se devo incontrare una persona non lo faccio niente alle 8 di mattina ma semmai alle 8 di sera nel distributore Agip di cui è titolare di Dio qualche suo familiare dopo mezzanotte c'è l'inferno di camion andate a provare andate voi fate giornalismo di inchiesta andateci andate d'estate alla vigilia delle elezioni europee che si tengono sempre a giugno vede quanta gente c'è ci sarei andato se permettete a casa sua sono entrato probabilmente lo ricostruisco così potrei negarlo chi lo può provare il contrario una conversazione telefonica ci sarò andato tante volte sua moglie cortesemente mi ha offerto il caffè perché non se l'ha fatto pagare ha insistito qualche volta una persona gentilissima non è esclusa che un'altra volta ci sia stato lui e mi abbia chiesto di sedermi a un tavolo non a casa sua che sarà a Castel di Udi che sapete quanti voti pigliava quando era nel pieno delle sue forze e libero di fare quello che voleva di Dio un centinaio di voti a Castel di Udi che tutti gli uomini di riferimento di cosa nostra a Castel di Udi Carramacca o Palagonia informatevi si sarà informata la procura mai mi hanno dato una mano o sono stati minimamente accostati al mio mondo noi giovani Presidente noi giovani ci confrontiamo con la realtà siciliana praticamente quello che tutti abbiamo sperimentato è che senza una raccomandazione non si va da nessuna parte per quello che mi risulta a me da Catanese lei comunque è stato un punto di riferimento le sue segreterie anche elettorali un punto di riferimento per un fiume di persone che comunque venivano a chiedere qualcosa secondo lei questo sistema può aiutare i giovani nello sviluppo oppure ci sta condannando giorno dopo giorno assolutamente no non ci aiutano nello sviluppo allora lei vuole mandare un messaggio a Toto Cuffaro in questo momento che ha fatto una lunga intervista sì gli voglio dire che mi spiace enormemente tremendamente che lui abbia ricevuto questa terribile condanna mi dicono che comunque vive con grande forza e con grande serenità questa terribile esperienza sono certo che lo fortificherà ho letto che appena finisce la sua esperienza carceraria si dedicherà all'agricoltura le dico con molta franchezza il suo fratello il mio fratello è una vittima di questa storia di questa vicenda è una vittima di questa storia ora per la verità sta cominciando a comparire questa storia come se fosse un mio strumento per rapporti più o meno illeciti ho chiarito per mio fratello che si è trovato in quel pranzo è giunto tutto con le mogli si va a un summit di mafiosi eventualmente con le mogli ci è andato perché per puro caso non ci sono andato io mi è stato ricordato il giorno prima che c'era questa questa gita con pranzo in campagna quando io con tutto il rispetto anche per il Catania piuttosto che per il Palermo non mi avete mai visto allo stadio è l'unico giorno che pranzo con mia moglie e dopo il pranzo schiaccio il cosiddetto pisolino se no mi sarei trovato io ho pregato lui di andarci perché avrei fatto una grande scortesia al geologo Barbagallo per il quale devo dire non ho mai avuto modo di sospettare che avesse queste amicizie frequentazioni pericolose c'erano anche i conigli c'erano anche i conigli c'erano i conigli selvatici e devo dirvi con molta franchezza che saranno stati scongelati perché a ricostruire la cosa eravamo in piena caccia chiusa è giusto e onestamente è un coniglio scongelato meglio fresco è un coniglio è un coniglio